buongiorno buongiorno amici delle rane ciao ragazzi questi sono gli occhietti del del risveglio al solito schema di ieri siamo qua sul terrazzone e lì se riesco a indicarla lì oggi c'è la nave che stamattina non è scappata e quindi vi saluta pure lei ciao ciao allora veniamo alla serata di ieri la serata di ieri è stata un burnout di grandi 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 emozioni perché perché ha cantato Giorgio ragazzi esattamente per quel motivo lì non ho visto tutti i cantanti proprio per questo motivo perché poi siamo dovuti uscire per fare delle interviste quasi come se le star fossimo noi che l'abbiamo scritta e non lei che quindi cosa succede succede che cantano vedo gli articolo e vedo l'articolo che mi fanno un effetto amar cord piacevolissimo e secondo me voluto cercato trovato quindi colpiti affondati a me hanno fatto abbastanza volare e il pezzo è figo adesso poi lo risentirò oggi come tutti gli altri dopo gli articolo c'è stato lazza che è abbastanza un campione mondiale non spreco troppe bellissime parole su di lui perché tanto sono inutili mi aspettavo grandi cose ed è arrivato pure con un pezzone quindi forse la prod musicale più figa che ho sentito per ora ovviamente tengo fuori gli affetti da questa da questa affermazione per effettivamente anche per la musica che faccio io o meglio non è vero per la musica che mi piace ho sentito veramente grandi cose poi con la pesce di martino che hanno fatto il colpaccio sembra che abbia davvero sempre solo grandi belle parole per chi perché si esibisce però davvero ragazzi sono arrivati con un grande pezzo e lo dico avendone sentito solo metà perché si era appena esibita giorgia e mi stavo impazzendo il telefono di messaggini quasi come dicevo prima come se fossi una star perché mi stai impazzendo il telefono di messaggini perché si era appena esibita giorgia e quindi veniamo quel momento lì insomma è stata introdotta amadeus ha letto i nostri nomi questo ha fatto sì che mi scrivessero amici delle elementari che non sentivo da millenni o meglio da un po di anni non sono così vecchio e poi cosa succede succede che questo brano che ho scritto è stato ascoltato da tutta italia o almeno dal popolo dello share e questa è un'emozione che non avevo mai provato e che non credevo mi avrebbe coinvolto così tanto lo dico così credo sia banale come affermazione però è vero cosa succede dopo succede che intanto vabbè non mi ha commosso mi ha mi ha conquistato con il suo con la sua performance non poteva che essere diversamente tra l'altro molto felice infatti nei video social che abbiamo fatto esplodice esplodiamo c'è l'urletto in sala quando scopriamo che fish e il il direttore e il maestro che dirige l'orchestra questo non lo sapevamo mi sono sempre chiesto chi avrebbe diretto l'orchestra è stata una figata vedere che l'ha fatto lui e quindi giorgia canta dice i nostri nomi cognomi o meglio lo dice amadeus dopodiché io e albi bianco andiamo a fare un'intervista a rai 2 e e li capisco tornando tornando giù in tornando giù mi fa ridere dire in paese cioè tornando giù in centro sanremo cioè laggiù ho provato queste queste emozioni che cerco di descrivervi così liberamente cioè ho sentito come se proprio la città risuonasse di questa canzone cioè di parole dette male ovviamente di quella perché l'ho scritta io beh qua voglio qua voglio il punto è l'autore cosa prova quando è qua e quando il suo brano viene passato un'emozione molto molto strana e perché c'è questa sorta di partecipazione pubblica immediata un'esposizione mediatica devastante che fa sì che tutti immediatamente esprimono il giudizio secco l'adoro idea meravigliosa stupenda capolavoro oppure no che schifo lei dovrebbe cantare un'altra roba buh merda e il tutto viene se uno poi stupidamente segue il socio in modo frenetico come sto facendo in questi giorni è una è una pioggia di meteore di info di commenti a caso che ti entrano nel cervello e ti distruggono è veramente emozionante posso dirvi se il bello brutto comunque è coinvolgente altro momento abbastanza topico è stata l'intervista con l'intervista a rai 2 adesso mi ricordo come si chiama programma perché topico perché immediatamente dopo è stata trasmessa in radio per la prima volta al brano e lì dal gabbiotto della rai davanti al all'arison poi c'era gente che l'ascoltava iniziava a canticchiarla e e quindi c'è questa canzone che si sparge nell'etern mondiale italiano nazionale sanremese ligure e per me che l'ho scritta è davvero una grande emozione spero che questo mio sbrodolarsi di sbrodolio di parole mattutine vi vi abbia detto qualcosa almeno la metà di quello che dice me e come vi dicevo poi non ho non ho ascoltato appunto per questi impegni che abbiamo avuto gli albi dopo l'esibizione gli altri concorrenti ma lo farò sicuramente oggi e nel video diary di domattina magari aggiungiamo qualcosa nel frattempo vi saluto vi do il mio grande bacio ciao ciao